Ciao bimbi! Oggi voglio fare insieme a voi dei fiorellini in cartoncino che poi ci serviranno per un esperimento. Quello che ci occorre sono dei cartoncini colorati, la colla, una matita e delle forbicine. Mi raccomando, fatevi aiutare dai vostri genitori, ecco le forbicine. Allora, quello che andiamo a realizzare adesso è un fiorellino. Siccome io non sono molto brava a disegnare, ne ho stampato uno. Vedete? Uno come questo. E lo vado a riportare sul cartoncino, in questo modo. Ecco qua. Poi utilizziamo il tappo della colla per fare il centro del fiore sul cartoncino giallo. Così. Mi raccomando, tenete ben ferma la colla mentre mamma e papà fanno il cerchio. Adesso, con la forbice, andiamo a ritagliare il fiorellino. In questo modo. Questa operazione è un po' complicata. Può farla tranquillamente la mamma o il papà. Ecco, fiorellino. Adesso andiamo a ritagliare il centro sul cartoncino giallo. Adesso, bimbi, tocca a voi. Prendiamo la colla. Andiamo a incollare il centro del fiore. In questo modo. Ecco qua. Quando avete riportato sui cartoncini colorati i fiorellini, li avete ritagliati, io me ne sono già preparati un pochino. Ecco qua. Di tutti i colori o dei colori del cartoncino che avete a casa, non importa. Adesso otterremo tutti questi fiorellini. Cosa dobbiamo fare adesso? Adesso ne prendiamo uno alla volta. E andiamo a piegare tutti i petali verso il centro. Mi raccomando, piegateli bene. Deve stare chiuso il più possibile. Ecco qua. Tutti i nostri fiorellini ben chiusi. Adesso vediamo un po' se riusciamo a farli sbocciare. Eccoci qua. Allora, ho riempito una bacinella con dell'acqua. E adesso vado a mettere i fiori sull'acqua. E adesso vado a mettere i fiori sull'acqua. Ciao bimbi. A la prossima video.